Sì della prima mattina pari a zero Un po' una pagliacciata secondo me sto fatto che mettano i record in questa modalità Che continuo quanto quella è la modalità vecchia, un po' una pagliacciata a parer mio Questa manna idato così, oh mio dio che ci fai lì dentro Aiuto Docazz, docazz, docazz Riflessi della prima mattina pari a zero Mamma mia Coltellini vintero tutti vero? Bella Inter, buongiorno Come state ragazzi? Sto beccato una bella scelchinata Che cazzo mi ha fatto scusami? Da lì non ci credo Come state ragazzi? Come state agency Ma questo al cappino è bello C'è un cazzo di money Ah, preciso Questo gioco delle volte ti dà quello che ti serve Delle volte invece fa proprio il contrario Tipo ti manca 500 per il loadout 4 casse di fila senza soldi Ancora lo vedevo questo A sopra Riesco tantissimo di morire Ma ti manca niente altro Pusciami Ragazzi vi dirò la verità Starma mi fa proprio schifo Starma guerra Fa abbastanza schifo Li stai facendo tutti Sì vabbè ma la lobby Non so se stai vedendo che lobby è La gente dorme Così sembrano a me dopo Dopo una serata a ballare Fustunnati proprio Perché a te non ti pinga il tuo compagno si? Sta cosa di fantasma ragazzi non funziona comunque Non capisco Cioè guarda questo Cammina craucciato Cioè Cioè guarda questo Steve Ok Questi livellano le armi facilmente su Vanguard Mai livellato su Vanguard, livello solo su Reverty Metterlo più veloce di tutto Cosa? Finale di compagni, zero Ehh, that was just a giraffe non era al contrario se sei in movimento non ti pinga se sei fermo ti pinga doveva essere il contrario ma come prima partita non male questa lobby però faceva un po' schifo ragazzi allora l'arma guerra intanto è questa se qualcuno se la vuole scrinnare al volo quando dirà questa modalità? non ne ho la più pari idea ho disponuto l'aggiornamento dei playlists forse l'hanno tolta vediamo ho fatto l'ultima partita della di aprile tolta subito quando l'ho fatta fare l'ultima partita l'ho tolta basta chiedere easy che timing perfetto ho fatto l'ultima partita